Siamo qui oggi con Sofiane Elarchi per parlare dell'attività che un'importante associazione del Pilasso sta svolgendo sul nostro territorio. Prima di dare la parola al nostro ospite volevo darvi due brevi notizie. Oggi è il 17 febbraio e quindi si festeggia il tredicesimo anniversario della dichiarazione di indipendenza del Kosovo che è avvenuta nel 2008. Ci sono moltissime persone originarie del Kosovo che risiedono nel nostro territorio e quindi volevamo unirci a loro a distanza per ricordare questo importante avvenimento. Volevo anche anticiparvi che per la prossima trasmissione di Ampioraggio TV avremo il piacere di intervistare un importante giornalista di Rai News 24, Marina Lalovic, un'esperta dell'area balcanica con la quale approfondiremo le tematiche relative alla rotta balcanica, la gravissima situazione che sta attraversando la Bosnia e Herzegovina e in generale parleremo della stabilità dei paesi cosiddetti dell'ex Jugoslavia. Queste realtà che sembrano molto lontane da noi, in realtà come dice il titolo della nostra rubrica, sono vicine perché ci parlano di paesi dai quali c'è una grande migrazione e poi parlano anche delle persone che sono vicine a noi ogni giorno, come in questo caso. Salaam Aleikum. Abbiamo qui con noi appunto Sofian che fa parte di questa associazione. Che in arabo vuol dire il perdono. È un'associazione che è nata nel 2007 da un'idea del signor Mohamed Elgana, ideatore dell'associazione Lofran. Che salutiamo. Che salutiamo, sì. Praticamente lui trasferitosi qui al pilastro, ha visto che c'era un problema di integrità tra le varie etnie e ha deciso di creare questa associazione per venire incontro alle esigenze delle varie etnie e quindi ha fatto un'associazione interculturale. Diciamo che questa associazione oggigiorno la conosciamo come l'associazione Lofran in via Giovanni Natali numero 5. Però è un'associazione che ha avuto dei step. Il step principale è stato quello presso le scuole Romagnoli dove dopo delle questioni burocratiche il signor Mohamed Elgana, l'ideatore dell'associazione Lofran ha avuto l'opportunità di prendere uno spazio e di fare un doposcuola, di fare attività sportive e di venire incontro alle varie esigenze dei ragazzi con genitori che avevano delle barriere linguistiche. Quindi pensa che in questo periodo dove siamo stati nelle scuole Romagnoli hanno partecipato tra bambini e parenti più di 180 persone. Poi un'altra attività che abbiamo fatto in partecipazione con la scuola Calcio San Donato è stata una, praticamente l'associazione Lofran ha preso dei ragazzi che erano in una piazza qui vicino, sempre qui nel pilastro che erano seduti nelle panchine e sono stati presi e sono stati invitati a partecipare a un torneo organizzato come ho detto poco fa con l'associazione Calcio San Donato e quindi questi ragazzi hanno avuto un'opportunità per fare degli allenamenti durante la settimana e di fare delle partite di campionato e anche oggigiorno ci sono alcuni ragazzi che hanno partecipato a quell'evento lì che ancora oggi giocano e militano diciamo anche in categorie più blasonate. Poi un'altra attività molto bella è stata l'attività rivolta alle donne immigrate con problemi linguistici e è stata un'attività per fargli conoscere i diritti e i doveri della Costituzione italiana. Poi diciamo come ho detto step by step siamo arrivati all'associazione con sede qui in via Giovanni Natale numero 5 e grazie a un bando che abbiamo vinto e quindi diciamo che questa realtà dell'associazione Lofran via Giovanni Natale numero 5 ha avuto diciamo vari step per arrivare qui e noi ricordo questo lungo percorso perché la minaria si è insediata al pilasto circa dieci anni fa anzi ormai undici e ricordo tutte queste fasi che tu stai raccontando in particolare quando parlavi di tutta l'attività laboratoriale di conoscenza della lingua che si è fatta alle scuole romagnoli credo che sia stata veramente importante e anche questa capacità di coinvolgimento che l'associazione fa sul territorio non solo nei confronti diciamo delle persone che hanno la necessità di oltrepassare queste barriere linguistiche di cui tu parlavi ma anche per la capacità di confrontarsi con quello che fanno le altre associazioni ogni volta in cui noi per esempio presentiamo una rassegna alcuni di voi vengono partecipano condividono con noi alcune esperienze e allo stesso modo poi le altre associazioni sono portate ad avvicinarsi a conoscere le attività che che voi fate quindi questa conversazione la trovo molto molto interessante anche perché ci aiuta a sconfiggere la nostra ignoranza perché purtroppo conosciamo molto poco quello che appunto riguarda la vostra cultura per non parlare ovviamente della vostra lingua e anche diciamo così tutte le importanti attività che che realizzate che mettete in campo per questo io naturalmente vi ringrazio però non ci hai detto nulla di te noi sappiamo che sei uno studente di ingegneria che vive a bologna ma sei nato in puglia vuoi dirci qualcosa del di cosa fai a bologna di quale sono io se sono nato in puglia sono praticamente cittadino bolognese perché sono venuto qui all'età di un anno i miei genitori sono di origine arabe quindi diciamo anche questo cioè non ho mai diciamo avuto problemi di integrità perché comunque facendo essendo comunque fin da piccolo stato un ragazzo abbastanza attivo non ho mai avuto problemi di integrità però ho notato che magari altri ragazzi sempre della mia stessa età e magari ma non non propriamente dei ragazzi dei bambini anche adesso cioè andando all'università vedendo alcuni ragazzi che magari hanno vinto borse di studio venire qui ragazzi siriani ragazzi giordani che vengono qui catapultati nella realtà quello universitario quello quello scolastico e vederli diciamo dispersi da abbastanza non fastidio però ti fa venire quella voglia di andare e avete bisogno cioè e noi dell'associazione wolfran abbiamo anche dei ragazzi che studiano all'università e che magari hanno problemi per ad esempio compilare la borsa di studio cioè io di un ragazzo che ho conosciuto personalmente è un ragazzo che ha bisogno e non sapeva della scadenza di una borsa di studio e purtroppo non ha potuto farne nonostante comunque avesse avesse diciamo avesse tutto il merito a livello a livello universitario e anche a livello anche a livello economico quindi diciamo che e sconfiggere questa barriera cioè abbattere questa barriera linguistica o o quella che è è una è una delle principali attività che noi vogliamo fare dell'associazione wolfran secondo te quali sono le difficoltà maggiori che trovano i ragazzi della della tua età ma anche più giovani che vivono in questo territorio e che magari provengono da culture differenti e come abbiamo detto poco fa si la la problematica maggiore è quella della lingua perché sono ragazzi sempre rimanendo in tema universitario ragazzi che magari sanno solo l'inglese e e purtroppo si hanno questo questo problema di integrarsi nel nel sistema nel quale vivono e quindi sì diciamo che la problematica maggiore che io ho visto e noi dall'associazione wolfran abbiamo visto è quella quella linguistica certo tra le varie attività che che proponete di cui ci hai parlato prima secondo te quali sono state quelle che hanno raggiunto maggiormente gli obiettivi per esempio questa che di cui parlavi prima che dedicata in particolar modo alle donne mi sembra molto interessante sì ovviamente copi permettendo e noi dell'associazione wolfran facciamo varie attività è una delle attività che vorremmo fare ovviamente perché comunque allora l'associazione wolfran con sede in via giovanni natali numero numero 5 è nata nel luglio del 2019 quindi praticamente a ridosso del del lockdown e tutto quanto e noi comunque facciamo attività gratuite quindi no profit e per diciamo ragazzi in dispersione scolastica scusate ragazzi in dispersione scolastica e donne immigrate con con problemi linguistici e diciamo e anziani anziani e le tre principali attività che facciamo sono quelle socio educative culturali e sportive durante il lockdown un'attività che è stata molto utile è stata quella di portare la spesa alle famiglie colpite dal covid ovviamente queste famiglie sono state segnalate e noi dell'associazione wolfran abbiamo avuto l'opportunità di andare e fare la spesa quindi l'acquisto della spesa e anche il trasporto della spesa fino alla casa delle famiglie colpite dal covid e quindi diciamo che purtroppo quel problema del del covid molte delle nostre attività sono state diciamo limitate ovviamente perché non non si possono fare ad esempio come hai citato te la scuola per le donne immigrate purtroppo quelle norme che ci sono non è possibile farle e anche durante il lockdown ovviamente non è stato possibile farle quindi diciamo che speriamo di passare subito questo periodo buio e poter riprendere le attività che possiamo fare diciamo sì perché tra le tante difficoltà diciamo che la pandemia ha portato con sé c'è anche questo aspetto che è molto importante c'è una limitazione della conoscenza soprattutto per persone che hanno più difficoltà di noi di avvicinarsi ai servizi anche che vengono offerti semplicemente perché non hanno la conoscenza linguistica necessaria per avvicinarsi e per usufruirne quindi voi fate un lavoro molto importante perché in qualche modo non solo abbattete le barriere linguistiche ma anche quelle tra virgolette burocratiche cioè riuscite attraverso il vostro lavoro a far sì che persone che avrebbero diritto ad accedere ad alcuni servizi lo possano fare quindi io ti ringrazio molto ringrazio molto tutta l'associazione per il lavoro che fa mi auguro che presto possiate riprendere a pieno ritmo tutte le vostre attività e naturalmente teneteci informati perché veniamo sempre volentieri a partecipare alle vostre iniziative grazie grazie a voi grazie per l'opportunità